Davvero la speranza può tornare a fiorire. Ecco allora l'augurio che voglio porgere a ciascuno di voi. Lo attingo a piene mani da una preghiera che Padre Pio rivolgeva a Gesù Bambino affinché lo Spirito Santo possa suscitare in noi gli stessi sentimenti. Vieni, diceva Padre Pio, a rinascere nell'anima e restaci per sempre. Forza nella porta, se sarò duro, e regnaci per sempre. Auguri di vero cuore a voi, fratelli e sorelle, alle vostre famiglie. Auguri a quanti ci seguono attraverso Padre Pio TV, soprattutto le persone ammalate e sole. La luce di Cristo che viene nel mondo vi riscaldi il cuore, vi dia gioia e vi rechi ogni consolazione. Con Gesù Cristo sempre, sempre nasce e rinasce la gioia. La Vergine Maria, Madre del Salvatore, vi resti accanto e vigili perché nessuno porti via dal vostro cuore il desiderio di incontrare il Signore. Il Natale, fratelli e sorelle, è una chiamata d'amore. Rispondiamo a questa chiamata e portiamo nel mondo la buona notizia che ci è stata annunziata quest'oggi. Siate nella gioia sempre. Buon Natale a tutti.